48 anni fa veniva costruito a Balconi di Pescantine in provincia di Verona il monumento che ricorda gli italiani che morirono e i pochi che riuscirono a sopravvivere ai campi di concentramento nazisti. Da allora ogni anno, puntualmente alla fine di settembre, Balconi ospita una cerimonia di ricordo che accomuna chi subì questa tragica sorte e può ancora raccontarlo e quanti in questi luoghi invece si adoperarono per quelli che tornarono. Ai 9 settembre 1945 e poi qui ho trovato un camioncino della Pontificia Opera di Assistenza che portava i prigionieri, gli ex prigionieri a Porta San Giorgio Verona e io sono salito su quello ci hanno portato a Portaviscovo e abbiamo preso il trenino e siamo arrivati in casa ai Lasi. Non è ricordo di Balconi allora? Qui ai Balconi siamo stati veramente accolti, come diremmo, maternamente perché ci hanno dato di tutto quello che potevano dare quelle signore che si prestavano sia loro che i rappresentanti della Pontificia Opera di Assistenza e ci hanno dato, diremmo, da mangiare, ci hanno dato da vestire perché non avevamo nulla. Ieri sera intanto abbiamo cercato di anticipare questo evento da una cerimonia che si è tenuta al teatro comunale di Pescantina per cercare di far giungere questo ricordo anche ai nuovi abitanti di Pescantina. La nostra scommessa è quella di cercare di creare un centro di documentazione, dobbiamo trovare uno spazio adatto in modo da tenere viva questa memoria di questo bel episodio di accoglienza che dimostra il grande cuore della nostra popolazione. La stazione ferroviaria di Balconi, fermata obbligatoria in quei tragici giorni di fine guerra del 1945, vide arrivare a passare migliaia di ex internati in condizioni disperate. 700.000 circa gli italiani che sostarono in questo luogo dove da subito la Pontificia Opera di Assistenza attivò i primi soccorsi, aiutata dalla gente del luogo e dalle giovani dell'azione cattolica che ancora oggi ricordano quei giorni. E' da una popolazione che aveva capito bene quello che nel Vangelo diceva il Signore quando parlava del samaritano, uno che non c'entrava, che non ha voltato la testa però da una parte, anzi si è fatto carico, ha assunto cose che non lo riguardavano, ha fatto dei gesti significativi come quello di pulire le ferite eccetera e poi di farsi carico fino alla conclusione, fino a portare il malato in un albergo, curarlo, pagare in anticipo, tutti i gesti piccoli ma molto importanti, molto significativi e che la nostra gente qui ha ripetuto proprio in quegli anni quando si è fatta carico prima di chi partiva con grande dolore e disagio e poi quando ritornavano per fare un po' da ponte con le famiglie che aspettavano notizie e che accoglievano coloro che avevano la sorte di tornare. Ecco anche quest'anno una cerimonia che Pescantina ricorda? Beh il ricordo è la cosa più utile che si possa fare per coloro come me che non hanno vissuto ma hanno sentito dai propri genitori, i propri nonni quello che succedeva e sto trasmettendo ai miei figli quindi spero che ce ne siano sempre di più affinché tutti possano ricordare quello che realmente è accaduto. Purtroppo tuona ancora il cannone come diceva la canzone oggi nel mondo, questo messaggio che ci hanno lasciato questi eroi, questi perseguitati insomma non è stato insegnato bene oppure se l'hanno scordato? Siamo in un momento in cui neanche coloro che hanno grandi autorità morale come Papa Bergoglio riesce a convincere le coscienze umane a fare qualcosa di diverso. Sono molto preoccupato, ci sono scenari che non hanno nulla a che vedere con le guerre tradizionali diciamo così, stiamo parlando di cose molto diverse e quindi penso e spero che la comunità internazionale faccia di tutto perché si evitano guerre di religioni, di etnie, di razza che sono quelle più speciose da combattere.